Voi me l'andate a censurare, ma siete mati? Eh, ma è giusto, giusto questo. E anche nel 73 successe la stessa cosa. Il film, mamma mia, lo sai, un Gesù che cantava per quei tempi era un offesa. Non poteva cantare. Era un'offesa. Poi il film fu visto da Papa e disse, ma è un film bellissimo, un musical molto bello, perché l'avete censurato, già. Erano, erano altri tempi. Ebbene, 1974, ma è stato un'ottima cosa che è stato ed oggi vediamo che negli anni il Casparano è stato tagliatore più significativo di promuovere.